Le terre dei parchi è il progetto pilota promosso dall'ente riserva naturale foce seletanagro e monti erimita marzano incentrato sulla coltivazione biologica di prodotti della filiera cerealicola e a cui è aderito il comune di pollica. L'obiettivo è quello di attuare mirate attività di sperimentazione per la coltivazione dei tipi di frumento come grani antichi farro e altre produzioni per la loro coerente successiva trasformazione come per la più conveniente destinazione di mercato. Ad aderire alla rete potranno essere le aziende presenti sul territorio comunale cilentano che dispongono di terreni incolti o sottoutilizzati.